L'ultima parte, vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook, sono rimasto ancora perpresso prima della pubblicità per quanto riguarda l'ospedale con l'ospite che abbiamo, l'euro parlamentare falleva già non atto. Due cose perché poi dobbiamo chiudere, una, il periodo da ministro come l'ha passato, visto che è stato un ministro importante perché era un ministro che doveva dare espansione nel lavoro, come l'ha vissuto quel periodo? Il ministro dello sviluppo economico, c'è un ministero del lavoro separato, sviluppo economico vuol dire dar lavoro, adesso è lo stesso ministro di Maio e di tutti e due, e in passato c'era stato un ministro che invece era ministro anche dei trasporti, molto però è come fare un viaggio in Cina, e cosa voglio dire, in dieci mesi quando è finito hai conosciuto la Cina? No. Allora il ministero è vastissimo, 4.500 dipendenti, si occupa di commercio con l'estero, di energia, di telecomunicazioni, di tutti i sistemi, diciamo così, di proprietà pubblica di attività produttive, Enel, Eni e via discorrendo, e ovviamente di come aiutare le aziende, perché è un ministero dell'industria, di come aiutare le aziende e le attività produttive nella crescita. La prima cosa di cui ha bisogno è avere risorse, perché per fare politiche devi avere risorse, perché solo sotto il profilo normativo invece, cambiare le norme puoi fare poco. Cosa abbiamo fatto? Nel campo dell'energia abbiamo potenziato tutto il sistema di energie rinnovabili. No, ma direi quello che ha fatto, perché la prima cosa che le ha fatto è perché lì poi saranno i dirigenti, quelli che le danno l'input, e deve avere una sicurezza di chi le è attore. Allora, uno si sceglie il segretario del ministero, quello di competenza del ministro decide chi vuole. E io ho avuto una persona molto in gama, si chiama Zaccardi, ed è uno tosto che ha vissuto in quei mondi, conosce tutto, perché è la prima grande questione, capire come si muovono i dirigenti, perché lei ha detto una cosa molto giusta, i dirigenti hanno un ruolo fondamentale in un ministero. E ora che li hai conosciuti tutti, quando ce n'è uno che non funziona lo hai cambiato. Passano mesi, mesi e mesi, anche perché sei continuamente sollecitato. Credo di non aver mai viaggiato così tanto andando dal sud al nord. aerei e automobile. Ho conosciuto personaggi, per esempio ho conosciuto, ho incontrato tre volte Marchionne, sono stato un giorno intiero con lui, è stato bellissimo. Ecco, in quei nove mesi ha dato qualche impronta. Allora, dico alcune cose interessanti che abbiamo fatto. Abbiamo sviluppato tutta una politica sul miglioramento della resa energetica degli edifici, dando dei contributi, soprattutto abbattendo a zero gli interessi, a chi decideva di rendere più efficiente energeticamente il proprio edificio. Cosa consiste? Creare isolamenti. Doppi vetri, isolamenti di ogni tipo. E dava contributi in questo senso. Questo significa consumare meno energia. Poi cosa ha fatto? Allora, un'altra cosa importante che abbiamo fatto, e far funzionare il Ministero come al solito dando i contributi, una cosa che ho trovato molto interessante, che abbiamo fatto, è una normativa per sviluppare la larga banda. Siamo al campo delle trasmissioni in questo caso. e la larga banda viaggia su un cavo, anzi, su fibra particolare. E quindi abbiamo fatto una norma per cui per i mini scavi, per mettere la fibra, devo dire una cosa curiosa, non si deve chiedere il permesso. In modo, perché se no non avremo mai la competitività nel campo della fibra. E se voi vedete quegli scavetti larghi, 20 centimetri lungo le strade, ci sono dappertutto, che sono asfaltati, delle volte non tanto bene, Soprattutto non bene. Quel scavetto è il risultato di questa normativa. Per mettere giù fibra... Per mettere giù fibra... Per mettere giù, cosa che devo chiudere poi con un'altra cosa interessante. Un'altra cosa importante. Abbiamo stabilito che internet si entra senza doversi iscrivere. Questa cosa l'ho vista la prima volta negli Stati Uniti. Io ho chiesto al Ministro, ma scusate, perché negli Stati Uniti entrano in internet, punto è finito, attraverso i wifi, mentre da noi devi fare tutta una procedura, eccetera. E abbiamo tolto ogni procedura. A Padova, per esempio, si entra senza procedura. L'è dispiaciuto quindi quando è arrivato Renzi, che non ha potuto fare il Ministro? Oddio, mi piaceva fare il Ministro, mi sarebbe piaciuto avere una fase in cui, dopo nove mesi, cominciavo a capire un po' di più. Io sarei anche un po' maniaco, voglio capire tutto. Mi dia un voto da Sindaco, se ne piace di più aver fatto il Ministro. Sindaco, Sindaco, Sindaco. Sindaco meglio di tutti. In chiusura, adesso lo faccio vedere, dei volti. Lei, ogni volta, mi dà un suo giudizio. Iniziamo con il primo, va bene? Iniziamo con il primo volto che adesso la legge metterà in onda. Eccolo qui. Lo vede? Diciamo che è la persona a cui mi sono ispirato di più nella mia vita politica. Enrico Berlinguero ha avuto la sventura di essere quello che lo presentava sul palco, dove poi ha avuto il malore fatale in Piazza dei Frutti. Andiamo alla seconda. Persona che stimo molto sono anche i rapporti di amicizia. Una brava persona? Sicuramente. Ci ha portato l'euro contento che ci ha portato l'euro. L'euro ci ha salvato. Non ha sbagliato qualsiasi, ci ha salvato, ma non ha sbagliato qualcosa in quei passaggi. Ma tutti sbagliano qualcosa. Perfetto. Anche Berlinguero. Lavorando si sbaglia. Diamo un'altra immagine. Solo Zaia non sbaglia. Questo. Io ho apprezzato molto D'Alema nel passato. E anche adesso ha un rapporto positivo. Su di lui c'è uno storytelling negativo che è completamente falso. Sì. Ho scritto delle cose su Facebook. Va bene. Non ce ne può così fare un... Ma per esempio si dice che lui ha fatto cadere Prodi. È una delle più grandi sciocchezze che si siano mai scritte. E c'è altro qualcosa. Andiamo nell'immagine successiva. Questo dovrebbe conoscerlo bene. Siamo molto amici. Ma questo l'ha messo Ministro. Esatto. Sono molto amico di Bersani. È una persona che stimo. Che ha una concretezza. È molto amato anche dai cittadini. È vero. Secondo lei ritornerà in auge? La vedo dura. Perché penso che il futuro non sia di questa vecchia generazione. Andiamo nel questo che questo sicuramente non è molto simpatico. Ecco, io penso che Renzi sia una persona intelligente. Ha aspetti anche di genialità come aspetti di follia. Ma ha in mente un modello che non è il mio. Io non sono perché lui non ci sia. Sono per esserci anch'io e alle armi. Trovando i punti in comune. Ma se comanda lui e vuole rappresentare a me, lui non mi rappresenta. Perfetto. E invece viceversa? Potrebbe che lui, se lei dovesse rappresentare lui, lui sarebbe contento? No. Penso di no. Comunque non siamo allo stesso livello. Certo. Diciamo la parte mia. Io parlavo io come parte mia. Ho capito benissimo. Lui è un leader nazionale. Andiamo negli ultimi due. Che sicuramente saranno i più simpatici. Ma ultimamente mi è anche un po' diventato simpatico. Perché tiene duro. Nonostante l'età. Nonostante l'età. Personaggio che ha introdotto in Italia costumi comportamenti. in politica molto negativi. Il disprezzo delle istituzioni, in particolare della magistratura. Il disprezzo di un comportamento corretto nel rapporto tra le forze politiche. Io per esempio, nel piccolo di Padova, quando c'erano i democristiani, finito il consiglio comunale, andavo sempre a mangiare con loro. E stavo, andavamo a mangiare una pizza da Serius. Ed era piacevole perché mi spiegavano un sacco di cose. Benzic, ma poi Gottardo, ma poi Giarezza. E c'è un po'. Adesso lo scontro è diventato totale. Lui, non c'era più il comunismo, ha rinventato l'anticomunismo. Non parliamo dei comportamenti personali e privati che non mi interessano. Inoltre, voglio dire... È stato male per Italia, quindi, secondo lei? Secondo me, più negativo che positivo. Positivo. Andiamo all'ultimo. Allora, lo conosco di persona. Il rapporto interpersonale tra me e lui è un rapporto anche piacevole. Non è sbruffone ed arrogante come lo vediamo in televisione quando hai nei rapporti interpersonali. Però sta portando avanti un atteggiamento politico che inquina profondamente, avvelina i pozzi della politica. Cioè, lui, per esempio, quando parla di immigrati parla di invasione. Ma dov'è l'invasione? E' una persona che, quindi, ritengo molto negativa per il Paese. Bene, siamo arrivati alla conclusione, proprio già un atto di questa puntata. Avrei tantissime cose da chiedere. Guardi, avevo quattro pagine, però ovviamente il tempo non ve lo permette. Magari un'altra volta... Quante pagine abbiamo fatto? Le abbiamo fatte due su sei. Vabbè, allora, le altre quattro vengono altre due volte. Erano molto interessanti. Ah, sono convinto. Le altre quattro su sei, però avremmo modo di averlo ospite, e di poter parlare nelle prossime occasioni. Grazie davvero di essere stato ospite a Primus Interpares, Fabio Giannolato. Grazie a lei, Giorgio Gorilla. Va bene, vi saluto i nostri telespettatori e do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Interpares. Buonanotte. Grazie a tutti. Grazie a tutti.